Ieri sera su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show. A trionfare è stata Giulia Luzzi, davvero tale e quale ad Elisa, con il brano Anche se non trovi le parole. Dato il giusto merito alla performance pivotata della serata, a mio avviso anche quella di Francesco Cicchella nei panni di Stash dei Decolors con il brano Every Time avrebbe meritato la vittoria. E qui si aprirebbe un lungo capitolo polemico che mi permetto di aprire adesso, ma di riassumere anche nella maniera più succinta possibile. In altre occasioni Francesco Cicchella avrebbe meritato la vittoria, ma il parere della giuria è stato ribaltato dai colleghi per via di quel incomprensibile meccanismo che vede gli stessi concorrenti votarsi tra di loro. E così forse a farne le spese è il meno integrato nel gruppo, chi lo sa forse il meno simpatico. Una seconda considerazione sulla giuria. Non è formata esattamente da ragazzini ed è anche normale che la loro preferenza sia orientata verso brani ed interpreti del passato. E infatti Frank Matano, giudice per Una Sera tale e quale, è stato quello che ha maggiormente apprezzato l'esibizione di Francesco Cicchella. E visto che tale e quale show non è un programma per nostalgici dei bei tempi che furono, forse sarebbe il caso di rappresentare stabilmente in giuria anche il pubblico più giovane che segue con affetto il programma di Carlo Conti ormai da 4 anni. Fine della polemica, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.